Alessandro Basciano, noto DJ e ex concorrente del Grande Fratello, è tornato a parlare pubblicamente della sua situazione con l'ex compagna Sofì Codegoni. Dopo essere stato arrestato per stalking e successivamente rilasciato, Basciano ha accusato Sofì di privarlo del diritto di vedere sua figlia, Céline Blue, nata dalla loro relazione. In un post sui social, il DJ ha espresso il suo dolore per non poter abbracciare la sua bambina e ha sottolineato l'importanza dei figli nella vita di un uomo. Ha dichiarato di essere stato privato della libertà di poter trascorrere del tempo con sua figlia e ha espresso il desiderio di poter ricostruire un legame con lei. Questa non è la prima volta che Basciano coinvolge la figlia nelle sue accuse contro l'ex compagna. Dopo la sua scarcerazione, aveva minacciato di rivelare dettagli compromettenti sulla loro relazione. Sofì, d'altra parte, ha scelto di proteggere se stessa, la figlia e le persone a lei care, prendendo la decisione di tenere Basciano lontano dalla vita di Céline Blue. La situazione tra i due sembra essere molto delicata e piena di tensioni. Basciano ha espresso pubblicamente il suo desiderio di riabbracciare sua figlia, mentre Sofì ha preferito mantenere un basso profilo e non rispondere alle provocazioni del suo ex compagno. Resta da vedere come evolverà la situazione se le accuse mosse da entrambi troveranno una soluzione pacifica. Per ora, la Codegoni sembra concentrarsi sulla sua famiglia e sulla sua vita, evitando di alimentare ulteriori polemiche con Basciano. La verità su questa vicenda potrebbe emergere solo con il tempo.